Cosa lega il film Il Postino a Sergio Endrigo? Apparentemente niente, almeno fino al 2013, quando dopo 18 anni di cause Luis Bacalov accettò di inserire il nome del cantautore tra gli autori della colonna sonora del film. Endrigo era ormai scomparso da 8 anni, ma da tempo aveva intentato una causa di plagio abbastanza evidente nei confronti del compositore argentino. Infatti la musica della colonna sonora, in certi punti, era pressoché identica alla canzone Nelle mie notti. Purtroppo il cantautore a causa della lentissima giustizia italiana non pote mai godere di questa sorta di Oscar postumo. Nelle mie notti più solitarie tu la mia mente fai prigioniera, la canto sulla musica di Bacalov. Nelle mie notti più solitarie tu la mia mente . Murto .. Grazie a tutti.